È tempo di cambiare. A Brindisi, nei rioni centro Bozzano, Casale, Paradiso, La Rosa e Tuturano, parte il servizio di raccolta rifiuti porta a porta. Nei giorni stabiliti, posiziona fuori porta i rifiuti differenziati negli appositi contenitori e buste. Monteco penserà al resto. Brindisi, aria nuova nella tua città. Per info, contattare il numero verde 800 18 36 40. La raccolta differenziata è una scelta vincente.